Anche il Mat Club, l'Associazione degli Amici del Museo Arte Tempo di Clusone, partecipa al 35esimo di Clusone Jazz. In che modo? Allora, sì, è un'occasione speciale, sicuramente Clusone Jazz è una delle eccellenze del territorio. Il Mat Club, l'Associazione Amici del Museo del Mat, Museo Arte Tempo, non vuole essere da meno, vuole partecipare con questo evento collaterale, ma importante, data la presenza di questo artista, Gabriele Lattuada, e si svolgerà, come dice appunto, al Mat, sabato 25 luglio, per cui a brevissimo, facendo sempre questo nostro connubio con l'arte e tutto quello che gira intorno, in questo caso la musica. E quale miglior musica suonata da un percussionista, quale Gabriele Lattuada, che appunto è di Clusone e ha vinto numerosi premi, e quindi il tempo battuto, lui userà vari strumenti, le percussioni normali, ma anche degli strumenti che non vi anticipo, molto particolari, che andranno idealmente a sposarsi con i suoni battuti all'interno degli orologi da torre che il museo ospita. Per cui infatti si chiama appunto Percussioni, un viaggio appunto nel tempo, e nel tempo ci sarà appunto alle 16.30 il nostro appuntamento, vi invito tutti, ricordo che è gratuito, siete tutti benvenuti. A 16.30 ci sarà una piccola introduzione all'interno del matto, per chi non le avesse visti e che ha voglia di rivederli, i nostri orologi funzionanti, la linea del tempo che poi andrà Lattuada a esplicitare in musica, invece alle 17.15. Se il tempo continua così ed è bello, sarà meraviglioso nel giardino del nastro azzurro, nel parco, e altrimenti comunque si farà in sala alle Grenzi, che è il piano superiore del museo, per cui in ogni caso si terrà questa manifestazione. Sarà anche l'occasione per fare gli auguri all'associazione Mat Club, amici del museo, che è nata appunto nell'estate del 2009, noi, ripeto, facciamo sei anni, siamo ancora in crescita, abbiamo voglia appunto di diventare grandi, magari come il Crusone Jazz. Comunque facciamo questo aperitivo, siete tutti invitati anche per questo, dove ci sarà occasione anche di scambiare due chiacchiere con il nostro musicista crusonese, per finire in bellezza appunto questo appuntamento in musica e in arte. Grazie. Grazie.